Cari utenti, abbiamo posto quattro domande a quattro giovani ragazzi che da tempo sono impegnati in politica nella nostra città. La prima domanda è stata che cosa ti ha spinto ad entrare in politica? Sentiamo le loro risposte. Ho iniziato a interessarmi di politica quando avevo all'incirca 18 anni. Bene o male tutti quando abbiamo 18 anni siamo un po' rivoluzionari, abbiamo delle idee, le nostre idee, le vogliamo far valere. Questo, visto che ho trovato delle persone che comunque mi hanno spinto, mi hanno dato quell'input ad avvicinarmi alla politica, appunto mi ha fatto sì di avvicinarmi al partito con i DS, in particolare al loro movimento giovanile, alla sinistra giovanile che mi ha portato appunto a questo impegno alla politica. Molta rilevanza ha avuto sia alle persone interne al partito che comunque mi hanno cercato perché comunque conoscevano le mie idee, le mie aspirazioni insomma ma anche la mia famiglia ha spinto molto e molta rilevanza credo abbia avuto anche l'apporto di mia sorella perché comunque mi è stata sempre molto vicina, anche lei ha condiviso con me questo percorso all'interno della politica e quindi abbiamo vissuto un po' parallelamente, abbiamo vissuto insieme questo nostro percorso all'interno della politica e ci ha portato ad impegnarci più o meno attivamente all'interno di questo mondo insomma. Il mio impegno in politica viene da molto lontano perché provengo da una famiglia che per molto tempo è stata impegnata soprattutto in ambito locale, ho deciso di impegnarmi in politica sì per quella tradizione che ho vissuto all'interno della mia famiglia ma soprattutto per una passione che ho da molto tempo, da quando ero piccolo. Man mano che magari crescevo riuscivo a capire e vedere con ottica diversa quelle che potevano essere le problematiche che potevano essere legate agli ambienti politici. L'impegno di un giovane secondo me risulta essere fondamentale non tanto in quest'ultimo periodo dove magari c'è stata un'accentuazione del problema ma già da qualche anno a questa parte e quindi personalmente ho fatto questa scelta. La ragione che mi ha spinto ad impegnarmi in politica è una ragione innanzitutto di tipo ideale, la volontà di cambiare il mondo e la società in cui viviamo. Chiaramente il presupposto principale è una critica che noi facciamo alla società e come organizzata e quindi anche il movimento di cui faccio parte è un movimento che si pone criticamente nei confronti di questa società. Quindi è la volontà di cambiamento che mi ha spinto ad impegnarmi in politica e ad impegnarmi con una forza progressista, altrimenti forse avrei deciso di impegnarmi con una forza conservatrice, ma la volontà vera e reale era quella di fare qualcosa che valesse a creare una società migliore e diversa. Per questo ho deciso di unire la mia forza a quella di tanti altri e di impegnarmi politicamente perché fondamentalmente credo che l'uomo nasca come uomo politico, un uomo sociale che ha bisogno di confrontarsi con gli altri, di confrontare le proprie idee e di tentare quanto è possibile per dare a chi verrà dopo di noi o anche a noi in un prossimo futuro una società migliore di quella attuale. Il mio impegno in politica nasce dall'esigenza di riuscire a capire quali sono le regole che utilizzano le persone che comunque prendono decisioni per noi e riuscire a trasmettere questo meccanismo poi nel sociale in un modo molto più trasparente e limpido di come avviene oggi che purtroppo questo metodo poco chiaro sta portando molte persone ad allontanarsi da ciò che è la politica. Quindi il motivo per cui sento di dovermi impegnare in politica è riuscire a far capire alle persone l'importanza di questo strumento perché da ciò nasce poi tutto ciò che ci circonda. La famiglia, il senso civico, gli ideali, la trasparenza dunque, queste le risposte dei ragazzi intervistati. Per ora è tutto, a domani con un'altra domanda ai ragazzi impegnati della politica bibernante.